il 15 ottobre è andata in onda la prima puntata di che tempo che fa trasferitasi sul canale 9 da quando fabio fazio ha lasciato la rai il presentatore si è portato con sé filippa lagerbach e luciana littizzetto non è passato inosservato anche perché in molti lo aspettavano il monologo della littizzetto che ha scritto una lettera per l'inizio di questo percorso con la warner bros mandando qualche stoccata alla rai e al governo cara 9 mettiamo le mani avanti fabio così se ci cacciano anche da qui lo sappiamo da subito e non svuoto neanche la valigia carissimo il 9 dear channel 9 mon cher chanel 9 amigos della 9 e muchachos della warner bros o pio 9 che sei 9 come le sinfonie 9 come il gioco dei 9 e 9 come le 9 settimane e mezzo meno mezzo ha iniziato così la lettera la comica parlerò di cose che fanno ridere perché è il mio mestiere ma parlerò anche di cose che fanno male perché è il mio mestiere anche quello parlerò di femminici di perché dall'inizio dell'anno sono già state uccise 90 donne di cui 75 in famiglia e possiamo cambiare rete ma non smettere di denunciare questo orrore parlerò anche di morti sul lavoro che sono 657 nei primi 8 mesi dell'anno più di uno al giorno perché chi se ne frega della sicurezza se bisogna fare soldi e farli in fretta e parlerò di guerra di tutte le guerre ne parlerò come so e come posso perché non sono un esperta posso solo dire che la guerra distrugge sempre mentre la prerogativa degli umani è quella di costruire ma ti giuro caro 9 che sarò sempre la parentesi minchiona della settimana l'angolo della balenga l'attimo di respiro dopo sette giorni in apnea la finestra socchiusa in una camera piena di mangiatori di fagioli e tu 9 accoglimi fatti capanna fatti guscio cofanetto scrigno e portagioie si la mia ostrica e io sarò la tua pirla